Vediamo come utilizzare intestazione e piedipagina in libri e manuali. Ciao, bentornato sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina. Intestazione e piedipagina possono venirci utili quindi in documenti di più pagine, ma soprattutto diventano utili quando scrivo documenti molto lunghi come un libro o un manuale. Una cosa che possiamo utilizzare in questo caso è la numerazione di pagina, per cui io posso inserire in un documento la numerazione di pagina automatico. Decidiamo se metterlo in intestazione o in piedipagina. Questa volta lo vogliamo mettere in piedipagina, per cui mi posiziono su un piedipagina qualsiasi, quindi su qualsiasi pagina sul fondo, e inserisco il numero di pagina. Ora devo posizionare il cursore per sapere esattamente dove metterlo e mi metto in questa posizione, vado a capo, per cui aggiungo una riga e ora dal comando che ho a disposizione metto inserisci numero di pagine. Ed ecco che mi è apparso il numero 1, il numero 2, il numero 3. Vediamo quante pagine abbiamo in definitiva. Abbiamo tre fogli, quindi pagina 1, pagina 2, pagina 3. È anche possibile aggiungere il totale delle pagine di un documento, se dovesse servirmi. E per farlo mi basta mettere inserisci conteggio pagine. E in questo caso è uscito il 3, il 3, il 3. Però, eccolo qua, anche l'altro 3. Però inserito in questo modo sembra 13, 23 o 33. Per cui io posso, volendo tra uno e l'altro, posizionare il cursore e andare a inserire una barra di separazione. Così ottengo 1, barra 3, 2, barra 3 e via dicendo sopra. Oppure potrei anche scrivere normalmente pagina 1 di 3. E quindi su questo foglio appare invece pagina 2 di 3 e pagina 3 di 3. Se aggiungo un'altra pagina in coda, per esempio, facciamo come nel video precedente con Control Invio per aggiungere un'interruzione di pagina, ecco che la numerazione è andata avanti. Pagina 3 di 4, eccetera. Poniamo il caso di voler aggiungere una pagina iniziale, quindi in questo caso premo di nuovo Control Invio per aggiungere un'interruzione di pagina, ma questa volta all'inizio di tutto il documento, ecco fatto, per cui la pagina esce all'inizio, questa viene numerata nuovamente, pagina 1 di 5, pagina 2 di 5, eccetera, eccetera. Bene. Ora mi piacerebbe migliorare questo discorso, mi piacerebbe fare in modo che la mia numerazione sia diversa per pagina sinistra e pagina destra. Un po' per fare questo effetto. Se io ho un libro o una rivista e voglio andare direttamente a una pagina, posso aprire solo leggermente il mio libro e la mia rivista e guardare nell'angolino il numero della pagina, senza doverla aprire per forza tutta quanta. Quindi voglio differenziare la posizione dei numeri da una pagina all'altra. Nella pagina sinistra devono essere a sinistra e nella pagina destra devono essere a destra, così quando apro il mio manuale trovo subito il numero nell'angolino. Ok. Quindi cambiamo l'impostazione, lasciamo solo il numero, quindi vado a cancellare i caratteri circostanti. Eccoci. Magari diamo un aspetto un po' più grande al numero, per cui vado in inizio e aumento la dimensione del numero. Facciamo 18. Perfetto. E ora vado a dire che li voglio a sinistra e a destra. Per ottenere questo risultato, devo dire a LibreOffice che pagina sinistra e pagina destra non devono avere la stessa intestazione. Per farlo vado sempre sul comando piedipagina, formatta piedipagina e qui ho la possibilità di dire contenuto uguale sulle pagine destra e sinistra. Ora è acceso, per cui le pagine destra e sinistra contengono la stessa cosa. Spegnendolo posso gestire in maniera diversa pagina destra e pagina sinistra. Posso anche decidere di cambiare la prima pagina, per cui vado a spegnere anche il contenuto della prima pagina, in questo modo non c'è bisogno che sia uguale alle pagine interne. Dico OK e ora posso lavorare, per cui scelgo la pagina di sinistra e dico allineamento a sinistra, poi scelgo la pagina destra e dico allineamento a destra. Ecco fatto. In questo modo, facendo scorrere, troverò le pagine di sinistra con la numerazione a sinistra, le pagine a destra con la numerazione a destra. ecco, ho fatto un po' di click sul documento in un punto vuoto per fare in modo che lui acquisisca questa modifica e scopro che, per quanto riguarda le pagine destra, sono tutti posizionati sulla destra, mentre invece, per quanto riguarda le pagine di sinistra, sono rimasti centralmente, ad eccezione della prima. Perché? Perché la prima pagina si differenzia dalle altre, destra e sinistra. Per cui, per spostare, in questo caso, il numero 3, e quindi tutte le pagine disperi di sinistra, al margine sinistra, non posso usare la pagina 1, perché quella è un mondo a parte. Quindi ora scelgo il numero 3 o una pagina sinistra qualsiasi e dico di allineare a sinistra. Ecco fatto. Do un paio di click perché il documento si aggiorni e ora il 3 è a sinistra, ma è a sinistra anche il 5 ed eventuali altri documenti. Inserisco un po' di pagine, per cui contro l'invio è apparsa la pagina numero 6, contro l'invio di nuovo è apparsa la pagina numero 7 con il numero di pagina allineato a sinistra. Bene. Perché si differenzia la prima pagina dalle altre? Perché delle volte, se si tratta di un libro o di quant'altro, magari si vuole avere un'intestazione diversa. Per cui ad esempio posso dire in prima pagina non mettermi il numero di pagina. Non serve. Lasciamo il manuale, magari lo scrivo un po' più in grande, per cui aumento la dimensione del carattere. Eccolo qua. E in questa posizione invece scrivo solo associazione maggiolina, ad esempio. e anche questo andiamo a scriverlo in dimensioni un po' più grandi. Facciamo 16. Perfetto. E qui poi provvederemo a mettere un'immagine o a scrivere il titolo bello in grande. Per adesso scriviamo solo il titolo bello in grande, Pepita e il mostro. Ok. Magari diamo un carattere diverso e portiamolo un po' in centro. Bene. Possiamo utilizzare la diversità di intestazione e piedi pagina anche nella riga di intestazione, inserendo magari due intestazioni diverse per la pagina sinistra e per la pagina destra. Per cui lavoro sulla pagina di sinistra e in questo caso voglio lasciare solo associazione maggiolina informatica facile per tutti. Ok. E sulla pagina di destra voglio inserire invece Daniele Castelletti. però per poterlo fare devo nuovamente andare a dire che pagina sinistra e pagina destra hanno intestazioni diverse. Quindi seleziono un'intestazione vado su questo comando formatta intestazione il contenuto uguale nella prima pagina è già disattivato disattiviamo anche il contenuto uguale sulle pagine destra e sinistra. Dico ok. Perfetto. Quindi pagina sinistra a posto pagina di destra ci vado a scrivere solo Daniele Castelletti. Perfetto. Aggiorniamo con un paio di click. Bene. Andiamo a vedere il nostro risultato. La prima pagina è a posto. La seconda pagina anche contiene Daniele Castelletti il numero 2 sulla destra. L'altra pagina contiene Associazione Culturale Maggiolina e il numero 3 sulla sinistra. In realtà mi viene da pensare però che quando io ho un documento ho la copertina poi lo apro e la pagina 2 è sulla sinistra e la pagina 3 è sulla destra se vengono stampati i fronte e retro i documenti. Per cui devo invertire la posizione di questi numeri. Seleziono dico a sinistra il numero 2 premo un paio di volte per aggiornare tutta la pagina e a destra il numero 3 ed ecco fatto quindi rimpiccioliamo un attimo il nostro foglio così vediamo meglio tutto il lavoro eccolo qua quindi pepita il mostro in copertina apriamo la pagina a sinistra c'è il numero 2 sulla sinistra con scritto Daniele Castelletti in alto a destra c'è associazione Maggiolina con il numero 3 eccetera per cui tutti i numeri pari li troviamo sulla sinistra eccoli qua e tutti i numeri dispari li troviamo sulla destra ed in questo modo la numerazione delle pagine avviene in automatico quando guardo un video faccio sempre sapere alla persona che lo ha fatto se mi piace oppure no e se mi piacciono i suoi video mi iscrivo subito al canale e Grazie a tutti.